Il jazz italiano per le terre del sisma cambia pelle e dal prossimo anno diverrà un festival stabile, permanente per l'Aquila, grazie al protocollo di intenti sottoscritto tra la Federazione Nazionale del Jazz Italiano, il Comune e la SIAE. Anche quest'anno il jazz italiano torna a mobilitarsi per le terre colpite dal sisma con un'intera giornata, quella di domenica, dedicata al jazz, nelle piazze e nei luoghi più importanti per l'Aquila. 80 concerti e ben 570 musicisti coinvolti, musicisti che arriveranno da tutta Italia. Diventerà un festival stabile perché noi avevamo promesso all'origine che saremmo stati all'Aquila per tre anni, il 24 agosto di due anni fa un nuovo sisma da matrice, quindi venimmo all'Aquila solamente per un momento e quindi decidemmo di regalare all'Aquila un'altra edizione, quella del quarto anno. Noi crediamo che a questo punto l'Aquila sia pronta per proseguire da sola, ma da sola significa con il nostro contributo, ovviamente noi saremo presenti, soprattutto in questo momento, laddove la nascita di una federazione nazionale del jazz, suggerita poi dall'esperienza aquilana, ci permette di avere una struttura che è pronta a coordinare un festival del jazz italiano. Laddove l'Aquila diventerà proprio il centro nevralgico di tutte le attività del jazz italiano e sarà il vero racconto, la vera fotografia di tutta la storia del jazz italiano, che oggi noi raccontiamo anche con una serie di libri. Ogni anno abbiamo un libro fotografico che è fatto di immagini, che è fatto di parole. Fortemente evoluta dal MIBAC, dal sindaco Pierluigi Biondi e dal musicista e direttore artistico Paolo Freso, l'iniziativa, che anche nel 2018 ha confermato la propria natura itinerante, toccando gli altri centri duramente colpiti dal sisma, concentrerà all'Aquila, come dicevamo, la giornata conclusiva del 2 settembre, con centinaia di musicisti e numerosi band, che suoneranno in oltre 15 luoghi diversi della città, un jazz club tutto nuovo in piazzetta del sole, una delle novità di quest'edizione, gestito per l'occasione da Italia Jazz Club, aperto già dalla sera del 1 settembre con una jazz band residente e musicisti che si alterneranno in una jam session notturna. Gli spettacoli del 2 settembre animeranno la Basilica di San Bernardino, la Casa dello Studente, la Chiesa di San Giuseppe Artigiano, Piazza del Duomo, Palazzo di Paola, ma anche Largo Pischetta. L'editorium del parco, sia all'esterno che all'interno, Piazza Chiarino, Piazzetta del Sole, Palazzo Lucentini Bonanni, Palazzo Carli Benedetti, Palazzo K Cappelli, Largo Tunisia, Palazzo Ciolina e l'emiciclo per lo spettacolo serale che inizierà alle ore 20. La scelta di nuovi luoghi quest'anno è evoluta, è evoluta perché vogliamo che la gente che verrà all'Aquila possa vedere una città cambiata e possa vedere luoghi che l'anno scorso erano inabitati o inabitabili e che quest'anno diventano straordinari teatri all'aperto dove fare dei concerti. Credo che in questo si cieli anche un altro dei significati di questa manifestazione, che non è solamente quella della solidarietà, non è solamente quella dell'attesa di mano, non è solamente quella di recuperare denari che serviranno per la costruzione del centro polifunzionario ad Amatrice, e questo lo diremo tutti i giorni perché crediamo sia molto importante, ma è anche quello di fare vedere una città che si muove, stavolta in senso positivo, una città che cresce, una città laddove la gente potrà constatare quanto la crescita della città passi attraverso la passione, non solo le competenze ma attraverso la passione. Noi il mondo del jazz e la passione ce la mettiamo tutta e ci piace pensare che se la città oggi è cambiata sia in qualche modo anche merito del jazz.